C'è la boraccia dei lenti La tengo qui io Prendevano questa una volta, no? Guarda che bello, eh? Prendevano il... Prendevano dal confinno Eh sì? Sì Un saluto Wow È로 Così io faccio il livello per la musica e l'attivazione e poi la vera registrazione la facciamo tutti. Quando vi vedete va la camera sulla spalla. Che bel faccio, che rizzolino, che bella cosetta, che è una coletta, che è una coletta. Che bel faccio, che rizzolino, che bella cosetta, che è una coletta, la vuoi scusare. Caricando una mattina, che è una strada al contrario, una coletta, una coletta. Caricando una mattina, che è una strada al contrario, una coletta.